Ehi, sono Flavio, il Meeple con la camicia e benvenuto a questa nuova puntata in cui osserviamo pianeti e stelle. Sì, perché oggi ti parlo di Galileo Galilei, diciamo probabilmente il successone di questa ultima, Essen 2024. Uno di tre giochi dello stesso autore che quest'anno ha detto ok, porto tutto a Essen, pure la casa. Ovviamente subito interesse da parte mia perché parliamo di astronomia e tema spaziale, comunque qui a livello scientifico quindi mi interessa ancora di più. Un gioco sicuramente particolare, non troppo ostico e ti dico già da subito, divertente. Adesso andiamo a vedere come funziona senza andare in conto proprio a tutte le regole. Dopodiché torniamo qui e ti dico che cosa ne penso. Ma prima ti ricordo di iscriverti al canale, cliccare sulla campanellina, lasciare un bel commento e un like così aiuterà il canale a crescere. Benissimo, eccoci qui, pronti a vedere come funziona Galileo Galilei, a osservare un pochino di pianeti, costellazioni, comete che in realtà sembrano delle saliere o delle barbe. Ora, in questo gioco competitivo da uno a quattro giocatori, noi che cosa facciamo? Tramite l'utilizzo di quella che è a tutti gli effetti una rondella, andremo a scegliere delle azioni che svolgiamo, ovviamente in ordine di turno, possiamo fare anche delle azioni aggiuntive spedendo, spedendo, mica spendendo, spendendo dei quadranti che sono questi qui, li scartiamo e ci facciamo delle azioni e utilizziamo i dadi come delle risorse, oltre a fare a un sacco di altre cosine. La partita termina nel momento in cui finisce il mazzo di pesca e quindi poi si ottengono i punti vittoria a fine partita. Andiamo a vedere brevemente come funziona. Nel tuo turno quello che fai quindi è selezionare un'azione con il tuo bel cannocchiale telescopio. Sposti questo da uno a tre spazi, ok? Quando arrivi qui praticamente si rinizia dal basso e quindi svolgi le azioni indicate in quello spazio, nell'ordine che vuoi. Questi spazi che hanno la crocetta non si possono utilizzare, quindi tu praticamente conti sempre da questo spazio in sostanza. Una volta che hai svolto l'azione, diciamo che noi facciamo queste azioni qua, questa tessera si rimuove, scorrono tutte le altre e finisce in fondo, quindi capisci che non puoi sempre fare le stesse azioni a nastro e ovviamente puoi andare solo verso questo lato, non puoi tornare indietro. Poi i giocatori tra l'altro hanno anche un'abilità personale se stai giocando la versione avanzata. Alla fine del tuo turno, se hai spostato gli inquisitori nella tua cantina, la tua cantina è questa qui in fiamme, come puoi vedere, gli inquisitori praticamente si troveranno in questi spazi, ok? Se tu li hai spostati tramite esattamente questa azione qui, quindi diciamo che lui si è spostato qui, andrai a fare un calcolo, ovvero quanto stai sulle balle alla chiesa e vedremo dopo come funziona. Vediamo un pochino le azioni che puoi trovare. Le azioni che puoi trovare sono innanzitutto quelle di ottenere un dado, molto semplicemente, prendi un dado dalla riserva, lo metti nel valore 1 e te lo metti in questo spazio. Il tuo magazzino può ottenere un massimo di 4 dadi e 3 nello stesso colore. Altre azioni che puoi fare sempre sui dadi sono quelle, come puoi vedere, di aumentare il loro valore di 1, di 2, poi dipende da quello che c'è scritto sulla tessera. Ovviamente non possono andare oltre il 6. C'è questa azione qui, che la trovi anche qui e qui e qui, questa è una tessera azione speciale di questo personaggio, ti permette di ottenere i quadranti. I quadranti fondamentalmente ti permettono di fare queste azioni speciali. Le azioni speciali sono quelle per esempio di cambiare il colore del dado, farlo salire di un livello, ottenere un ulteriore dado, spostare i tuoi libri. I tuoi libri sono qui, tra l'altro quest'azione la trovi anche qui, anche se è un pochino diversa come puoi vedere, qui c'è una bandierina. Come funziona spostare i libri? Durante la partita tu aggiungerai delle carte in questo spazio, principalmente quando farai un'azione che è quella di osservazione, la vedremo dopo. Quando vuoi spostare i tuoi libri, li sposti sempre verso destra e del valore indicato. Puoi spostare un libro di 3 in questo caso, oppure 3 libri di 1, 1 di 2 e 1 di 1. E che cosa succede? Vai a ottenere tutti i bonus e non solo bonus, perché potrebbero essere anche malus nel caso di questi di ottenere un inquisitore, dove sei passato e dove ti sei fermato. Quindi diciamo, con questo bel 3 io magari voglio spostare, voglio fare 1 e voglio fare 2 e 3. Cosa succede? Avanzo su un tracciato che andremo a vedere tra pochissimo, qui faccio spostare uno dei miei inquisitori, ottengo un ulteriore dado, quindi questo finisce qua, ottengo un altro dado, non lo posso ottenere, però sai quest'altro rosso non mi serve, lo scarto, mi prendo un altro giallo che mi fa più comodo. E questo praticamente funziona così. Quando invece c'è la bandierina, un singolo libro arriva fino in fondo e ottengo ovviamente tutti i bonus. Questa azione qui, che poi la trovi anche qui spendendo 4 quadranti, è quella di scoprire e osservare una cometa. Tu prendi una delle tue comete e la vai a mettere sul tabellone. La cometa che hai osservato viene messa qui in alto, ok? Queste a cosa servono? Le potrai utilizzare come sconto per l'osservazione di questi oggetti celesti e vedremo tra un pochino come funzionano, perché hanno un duplice utilizzo. Un'altra azione che puoi fare è quella del miglioramento, che come puoi vedere qui in alto non si muove mai, nemmeno questa si muove. Come funziona? Tu prendi una di queste tessere, la scegli tu e la capovolgi dall'altro lato, in modo che diventi un'azione migliorata e necessariamente più forte di quella precedente. E c'è anche una meravigliosa scheda di riferimento dove trovi il retro di tutte le tessere senza doverle stare a girare ogni volta. Questa azione qui è quella che ti permette di salire sui tracciati. Ora come puoi vedere qui ci sono dei tracciati, sono diversi ogni partita, perché vedi queste sono delle tessere che sono a doppia faccia, ce ne sono altre che non sono state messe e ci sono queste tessere che possono capitare o qui sopra o qui in cima a questi tracciati. Tendenzialmente questi sono punti vittoria a fine partita. Per esempio, questo tracciato ti dice che in base a dove sei arrivato tu prenderai un tot di punti vittoria in base a quanti miglioramenti hai fatto. Quindi sei qui in alto, sono tre punti per ogni miglioramento. Questo invece per gli spazi che ha percorso il tuo libro più indietro, gli inquisitori che hai nella tua cantina, le carte che hai osservato. Quando poi sali su questi tracciati potresti ottenere dei bonus o anche dei malus, come puoi vedere, perché qui si tratta di ottenere questi simpaticissimi inquisitori. Anche se gli inquisitori non è poi tanto male che loro vengano a controllare il tuo lavoro perché potrebbero diventare punti vittoria. Vedremo come. Qui in alto invece cosa succede? Nel momento in cui tu raggiungi uno di questi obiettivi vai a mettere il tuo meraviglioso segnalino per dire ehi ho completato questo obiettivo e ottieni 7 punti vittoria e la possibilità di dire ciao ciao a uno degli inquisitori. Lo rimuovi dalla tua plancia praticamente. Tutti i successivi giocatori che faranno quell'obiettivo otterranno meno punti. Andiamo infine a vedere l'azione principale che è quella di osservare. Noi possiamo osservare gli oggetti maggiori che sono praticamente quelli rappresentati sulle carte oppure le costellazioni che sono queste più piccoline. Come lo facciamo? Spendendo i dadi che sono le risorse in questo gioco. Con questa azione tu puoi osservare un oggetto maggiore e quindi fai riferimento a questo lato della carta oppure fino a due costellazioni e queste possono essere anche su carte diverse. Come funziona? Allora fai conto che questi che vedi qui sotto sono i miei dadi disponibili ok? E io voglio osservare la luna perché mi pare cosa buona e giusta. Ora avviciniamo la carta. Per osservare la luna io che cosa devo fare? Devo andare a spendere dadi di valore pari o superiore a 8, meglio se vado pari perché se vado superiore non ottengo dadi di resto, di colore arancione. L'arancione come si fa? Con il rosso e il giallo. Questo è indicato su tutte le carte e hai anche una scheda di riferimento sulla tua plancia. In questo caso come puoi vedere ho un 4 e un 3 quindi arrivo a 7, non arrivo a 8 e qui entrano in gioco le comete. Io posso utilizzare le comete per praticamente scontare i costi. Quindi in questo caso per me questo è un 7. Perfetto per il mio 4 e il 3. Quindi questi li scarto e li metto nella riserva. La cometa di valore 1 che succede? Diventa di valore 2 e la metto qui sotto. Quindi adesso è una cometa che si è avvicinata, è più figa l'osservazione, è più interessante e mi darà uno sconto di 2 nella prossima osservazione. Una volta che l'ho utilizzata la seconda volta alla fine del mio turno questa finisce qua e quindi posso metterla in uno di questi spazi che sono ovviamente esclusivi. Una volta che sono occupati a rivederci e grazie e danno tutti dei vari bonus. Questi qui sono disponibili solo in 3 o 4 giocatori. Una volta che io ho pagato quello che devo pagare per l'osservazione ottengo quello che c'è scritto qui, in questo caso 7 punti vittoria e un altro inquisitore e la metto sulla mia plancia o meglio di fianco. Come abbiamo visto prima queste carte finiscono qui e tu puoi vedere qui sotto quello che ci sarà qui dietro. Quindi puoi fare un pochino di strategia sulle carte che vuoi prendere e la metti qua. Quindi con l'azione che abbiamo visto prima di spostare i libri poi potremmo ottenere ulteriori risorse. E ovviamente poi si scopre un'altra carta. Con questa stessa azione di osservazione invece che osservare un oggetto maggiore dicevamo che possiamo osservare anche le costellazioni. Quindi per esempio io potrei utilizzare questo 5 per osservare questa costellazione che mi dà 5 punti vittoria e un altro inquisitore. E poi utilizzare per esempio questa cometa di valore 2 e il mio dato di valore 1 per osservare questa. Scartate le risorse e questa come abbiamo visto finisce qua. Quando osservo le costellazioni per ogni costellazione osservata vado a prendere il segnalino costellazione nello spazio più a sinistra, ottengo i bonus che sono indicati qui sotto e li vado a mettere su quelle costellazioni che ho osservato. Quindi in questo caso prendo un quadrante, una carta dal mazzo e la metto qui e questi finiscono qui. Quindi sappiamo che non possono essere più osservati perché sono già stati osservati. L'altro era questo. Ecco qua. Finito il mio turno devo posizionare questa. Ah, la andiamo a mettere qua così facciamo altri tre passettini con i miei libricini. E diciamo che facciamo un passettino qui e ci otteniamo un dado. Voglio un dado blu e quando si ottengono i dati sono sempre di valore 1. Un altro passettino sarà questo, quindi avanzo su uno dei tracciati e un altro sarà questo per ottenere un quadrante. Oh, è la fine del mio turno. Un turno in cui tra l'altro ho spostato gli inquisitori, come abbiamo visto prima. Quindi ora loro fanno delle interrogazioni, mi interagono, fanno delle analisi, mi devono cercare di capire se darmi fuoco o meno, praticamente. E allora io vado a calcolare quanto sono pericoloso per loro. Infatti vedi che ci sono dei valori in alto, ok? Meno 4, meno 2, meno 1 e più 1. In questo caso io ho un totale di meno 4 e quindi faccio 4 passi indietro su questo tracciato. 1, 2, 3 e 4. Ah, che bello, sono proprio, eh, ben voluto dalla chiesa. Questo che significa? Che se finisce adesso la partita io perdo meravigliosi 10 punti. Se questi inquisitori che abbiamo visto sulla mia plancia riescono ad arrivare in questo spazio che è positivo, i passi che farò saranno verso destra e di conseguenza diventeranno punti vittoria positivi. Tra l'altro bisogna fare attenzione perché fare passi oltre l'ultimo spazio significa perdere due punti vittoria. Fare passi oltre lo spazio più a destra invece guadagnare punti vittoria. Alla fine della partita i punti vittoria che si ottengono sono determinati proprio da questo tracciato e dalla nostra posizione in questi tracciati in base agli obiettivi che abbiamo perseguito. Chi ha più punti è il vincitore. Bene, eccoci tornati qui. Come visto, molto veloce, molto semplice, hai i suoi bei incastri, in effetti devi cercare di far quadrare tutto quanto, ma in realtà non è poi così complicato. Adesso ne parliamo seguendo la mia personale classifica di cose che secondo me un gioco dovrebbe avere, partendo dai componenti che sono buoni. Ecco, il fatto che ci siano le plance dual layer e che non siano le classiche con una tonnellata di colla che poi si piegano, ma in realtà è una bustella che si piega. Se vuoi puoi metterci i biadesivi che trovi all'interno, in realtà non servono, puoi tenerla tranquillamente così e evitare di utilizzarli. Il resto dei componenti sono buoni, le illustrazioni sono carine, mi piacciono sicuramente molto quelle delle carte, e è un gioco che stranamente non occupa tanto spazio. Ora qui siamo nel periodo delle scoperte astronomiche, quindi quei primi ricercatori e scienziati che puntavano gli occhi al cielo e dicevano, oh wow, quella non l'ho mai vista. O magari quando sono state scoperte le varie lune di Giove che gli giravano attorno, e questo ha cambiato decisamente la concezione di quella che è il nostro sistema solare. Noi impersoniamo quindi questi famosi scienziati e intellettuali che si dedicavano all'esplorazione celeste, dalla terra, per cercare di fare un casino di punti. Ma ovviamente c'è l'inquisizione, c'è la chiesa che tu mi stai dicendo che noi non siamo il centro di tutto, ma allora ti do fuoco e quindi dobbiamo fare molta attenzione. In che modo? Allora c'è sicuramente la rondella, questa selezione delle azioni, ok, con questa effettivamente rondella, anche se poi questo bellissimo cannocchiale che punta le stelle, che è molto meno restrittiva di altre rondelle, dove alle volte devi fare delle scelte super importanti. Dici faccio questa oppure salto e faccio quest'altra con il rischio che poi prima di rifare questa non so quando la potrò rifare. Sì, anche qui c'è questo concetto perché in effetti tu quando fai un'azione questa finisce in fondo alla fila e devi fare almeno un paio di azioni, sì, per poterla rifare di nuovo. Quindi questo concetto di saltare in avanti della rondella c'è, ma non l'ho mai sentita troppo punitiva come rondella rispetto ad altre rondelle. Poi è personale, non è in condivisione tra tutti gli altri giocatori, quindi non c'è un vero e proprio punto di contatto. La prima cosa che ti viene in mente da fare è ok, io me le faccio tutte una dietro l'altra, in attesa di fare il super turno splendido per fare tante cose. In realtà ti accorgi ben presto che non puoi fare una roba del genere perché intanto gli altri giocatori si sono presi tutti, sono schizzare avanti coi punti e tu perdi la partita. Quindi devi fare sicuramente delle scelte interessanti. Qui abbiamo quindi la rondella, ok, come azione principale e poi una sorta di risoluzione di contratti perché poi diciamocelo, queste carte sono i classici contratti dove tu devi spendere delle risorse che in questo gioco sono dei dadi che dobbiamo far crescere di valore per ottenere poi dei benefici. Ma il punto è proprio quello, quale carta vado a fare? Perché non vado a fare semplicemente quella che mi dà più punti, vado a fare quella che mi dà un certo numero di punti, però mi dà anche l'inquisitore, quindi devo riuscire a gestire gli inquisitori o magari in questo momento non ho dei dadi troppo alti, mi faccio qualche costellazione e poi se ottengo questa carta ha dei bonus veramente interessanti che mi posso mettere sulla plancia per poi far avanzare i miei libri, ok? Quindi insomma ci sono tante scelte interessanti che devi fare all'interno di questo gioco, soprattutto poi con questi tracciati che cambiano di partita in partita. Su quale tracciato voglio salire? Mi conviene quello o mi conviene quell'altro? Questo qua mi fa prendere un sacco di altri inquisitori, quindi devo puntare più su quella strategia di muoverli questi inquisitori per fare più punti, o magari vado piuttosto sugli altri. Ci sono tante scelte interessanti, ma senza essere un gioco troppo pesante. Infatti questo secondo me è quasi un Family Plus, potrebbe essere adatto quasi a tutti. Lo vedo perfetto in serate ecco da associazione o magari da famiglia che comunque sai è abituato a giocare un po' di giochini da tavolo, che so magari un Carcassonne o un Seven Wonders. Questo diciamo che è bene o male sullo stesso livello di difficoltà. Il gioco non è dispersivo, perché ti dice molto bene quello che devi fare. Come farlo e quando farlo ovviamente è proprio il cuore del gioco. Che azione scelgo? Questa o quell'altra? Miglioro questa o miglioro quell'altra azione? Perché poi un'altra cosa che vuoi fare è molto importante, è migliorare le azioni per fare delle azioni sempre più forti. Infatti il gioco parte molto lento, dove le carte qui scorrono molto lentamente e sono poi il timer del gioco. Poi a un certo punto come le azioni vengono migliorate, perché è una cosa che vorrai fare in un modo o nell'altro, il gioco inizia a correre perché le azioni ti permettono di fare più cose e quindi finisce da un momento all'altro. Secondo me è anche adatto un po' a tutte le esperienze perché essendo semplice ti basta una partita per comprenderne le meccaniche e godertelo tranquillamente con quelli che hanno già qualche partita alle spalle. C'è anche la possibilità di giocare con i personaggi dal lato semplice, quindi senza la loro abilità. Diciamo che magari hai poca esperienza con i giochi da tavolo, parti con questa e poi alla successiva aggiungi le abilità. Noi siamo partiti tranquilli perché siamo esperti! Siamo partiti direttamente con le abilità dei personaggi, ovviamente magari non ne abbiamo tirato fuori il massimo che avremmo potuto tirare, però non sono poi così complicati da utilizzare. Il regolamento l'ho trovato fatto bene, è tutto chiaro e semplice. Il gioco ha un po' di simboli qui e lì ma sono comunque riassunti tranquillamente nella scheda di riferimento del regolamento, quindi trovi tutte le informazioni. C'è anche questa bellissima scheda di riferimento dove sono mostrati il retro delle tessere azione. Dall'altro lato c'è questo che sono le tessere di punteggio che potresti trovare qui e non ho idea per chi le abbiano messi anche qui dietro comunque dice boh c'avevamo l'altro lato qualcosa ci dovevamo mettere, sì ci potevi mettere altre cose che potevano essere utili. Comunque il gioco è indipendente dalla lingua, non è ancora localizzato da nessuno ma si vociferano localizzazioni e in questo gioco c'è un pochino di casualità perché nelle carte ovviamente io completo una carta, la tolgo, si scopre la successiva e il giocatore successivo ce l'ho fatta completa, la vado a fare. Può capitare a tutti però, quindi voglio dire e di solito vuoi essere sempre pronto a reagire a questa eventualità ma nella maggior parte dei casi ti eri già fatto strategia per prendere altre carte. Sicuramente è più l'interazione con i giocatori che crea dinamicità all'interno della partita perché in effetti tu prima che ti ritorna il turno in quattro giocatori soprattutto è difficile che tu possa dire ah prenderò quella carta, molto improbabile. A prendere il gioco avendo delle regole comunque molto semplici e brevi non ci vuole granchetti, basta proprio la classica partita di rodaggio. Tra l'altro le partite sono anche veloci, ovviamente più giocatori ci sono e più il downtime aumenta ma generalmente è un gioco molto veloce. Magari quando hai più opportunità perché magari hai tante risorse, hai tanti di questi quadranti che ti permettono di fare delle azioni aggiuntive che puoi incastrare all'azione base, allora lì magari il tuo turno può prendere un po' più di tempo e questo soprattutto avviene verso la seconda metà della partita. Ma generalmente le partite sono abbastanza veloci. Per quanto riguarda l'interazione non c'è un'interazione diretta perché ognuno seleziona le azioni sulla propria plancia, tendenzialmente ci si frega le carte, gli spazi delle costellazioni e gli spazi delle comete qui in basso perché quel giocatore che punta dritto e diretto sulle comete si va a prendere sicuramente per primo, molto probabilmente, questi bonus che sono qui sotto che comunque sono bonus in più e sono molto buoni. Per il resto i punti di contatto sono finiti lì. Certo sì, arrivare primo a fare determinati obiettivi, di fare più punti degli altri, interazione molto molto indiretta. Però comunque quando scegli di fare le azioni vuoi vedere un pochino quello che stanno facendo gli altri, mi conviene fare questa azione, andare direttamente a fare l'azione di miglioramento magari per avere questa tessera migliorata, oppure andare subito a cercare di prendere quella carta anche se non sto ottimizzando in questo momento perché ci sono quegli altri giocatori che hanno gli stessi dati con gli stessi colori e potrebbero prenderla. Quindi stai anche un po' attento a quello che fanno gli altri giocatori. E ho visto che scala bene in qualsiasi numero di giocatori. C'è anche la versione in solitario, una paginetta di regole, semplice semplice, funziona. Il gioco ha delle variabili. Ovviamente le carte che innanzitutto non escono tutte in partita ed escono ovviamente in ordine diverso. Sì, bene o male, voglio dire, sono quelle, no? Ti danno punti vittoria e ti danno quel piccolo bonus. Il punto è che quando farlo, quando quel bonus è veramente utile, quando voglio prendere quel bonus piuttosto che quell'altro e poi ovviamente questi tracciati, questi tracciati dove salire, su quale salire, su quale puntare, le abilità dei personaggi e come ti costruisci, no? Questa fila di bonus e quando e come la vuoi attivare per ottenerli. Quindi ce l'ha una sua buona longevità e secondo me si presta anche molto bene a future espansioni. In definitiva cosa penso di questo gioco? Ora, nel panorama ludico dove sappiamo benissimo che oramai la novità non esiste, ok? Quello che noi dobbiamo cercare è di dire, ok, mi sono divertito. Bene, questo gioco è quello che ci ha trasmesso. Abbiamo finito la partita e ci siamo detti, ok, non ha inventato sicuramente la ruota, ma mi sono divertito. Lo rigiocherei molto volentieri. E questo è già un enorme traguardo per quanto riguarda il gioco da tavolo moderno. Ha dei componenti buoni, le illustrazioni sono carine, le dinamiche sono interessanti, la selezione delle azioni anche, c'è questo bel senso di crescita, una longevità decente. sicuramente uno dei giochi più interessanti che ho giocato ultimamente. Bene, e questo è tutto. Io ti ringrazio per aver guardato quest'altra puntata. Se hai dubbi o domande di qualsiasi tipo, mettile nei commenti e risponderò appena possibile. Se ti piacciono i video che faccio, considera l'idea di iscriverti al canale, cliccare sulla campanellina, lasciare un bel commento e un like, così aiuti il canale a crescere. Io sono Flavio, il Meeple con la camicia, e mi raccomando, punta gli occhi al cielo. Al prossimo episodio